Domenica prossima al San Paolo torna l'appuntamento sportivo tanto atteso da adulti e bambini, protagonisti di una giornata all'insegna della competizione e del divertimento. E' il San Paolo Sport Day, la manifestazione podistica giunta quest'anno alla quinta edizione, che a partire dalle 9 vedrà circa 700 atleti in gara su un percorso di 10 chilometri. Si parte dallo stadio di Fuorigrotta fino al parco della Mostra d'Oltremare. Alle 10.30 spazio poi agli amatori per la passeggiata non competitiva di 3 chilometri, che permetterà anche ai non addetti ai lavori di scendere in campo e seguire le orme dei podisti. Sarà una bella festa soprattutto perché una volta tanto allo stadio si entrerà tutti da protagonisti, perché tutti quanti potranno essere in campo personalmente e non sugli spalti a guardare uno spettacolo, perché come ben saprete ci sono circa 800 partecipanti che prenderanno il via della gara podistica dei 10 chilometri, ci saranno qualche centinaio di partecipanti alla gara non competitiva, alla passeggiata aperta a tutti e inoltre ci saranno almeno 200 ragazzini dai 14 anni a scendere che poi prenderanno gli spazi della pista di atletica e che quindi andranno a completare questa grande festa. Organizzata dall'Associazione Sporting Club Atletica Napoli con il gruppo Enterprise, il sostegno delle istituzioni locali e la collaborazione della Fondazione Teleton e dell'Esercito, la mattinata si concluderà con le competizioni promozionali previste in pista per le categorie giovanili. È una manifestazione che mira naturalmente a promuovere, a divulgare quello che è l'importanza dell'attività sportiva, del sano agonismo, della sana competizione. Naturalmente i destinatari di questo messaggio così positivo risultano essere sempre i nostri giovani. Anche quest'anno infatti sono state coinvolte degli istituti scolastici con i quali attraverso dei protocolli d'intesa si sono ovviamente siglati e le scuole hanno ben volentieri partecipato. È anche, devo dire, un'opportunità per scoprire il San Paolo che non è soltanto palcoscenico naturalmente di performance calcistiche ma anche un mondo che propone mille attività diverse. Vi aspettiamo tutti quanti, dalle 9 saremo lì, ingresso libero ovviamente per l'accesso al San Paolo e speriamo ovviamente che possa essere davvero un momento diciamo gioioso e piacevole da vivere tutti quanti assieme.